Commozione, gratitudine, affetto ma anche il desiderio di aiutare gli altri. Non poteva essere una regata come quella degli anni scorsi, quella con cui il club nautico San Marco ha voluto concludere l'anno sociale 2022. Nel ricordo del suo fondatore e storico presidente Giuseppe Bepi Fonger, mitico Reden Remo, scomparso poche settimane fa. Le parole del figlio Gianluigi, attuale presidente della remiera. È la prima gara che facciamo senza il nostro presidente onorario Bepi Fonger. Ci manca già tantissimo, però è bello ricordarlo così, nella sua remiera, quella che ha contribuito con tanto entusiasmo a costruire. Sport e solidarietà si sono conclusi con una festa e una grande tavolata, grazie alla generosità dell'imprenditore Sergio Puppola, che ha raccolto a fondi tra i partecipanti, ha fruttato 700 euro per il gruppo operativo AISM dell'Idao. Questa remiera ha preso a cuore la situazione dell'AISM e dei malati di sclerosi e quindi non posso che abbracciarli, abbracciare tutti e ringraziare. Le attività che facciamo nel territorio sono di sostegno principalmente ai malati di sclerosi, ma in realtà ci occupiamo di sostenere tutte le famiglie che hanno dei problemi comunque di salute, dei malati, siamo riusciti a procurare un pulmino nuovo. Grazie a tutti.